Un sorriso che regala felicità ed entusiasmo ogni volta. Lorella Cuccarini riempe di magia ogni sua visita, affascina, coinvolge e sorprende nella sua semplicità. Al fianco dell'Agbe, da più di un decennio, questa volta ha voluto presenziare ad una giornata organizzata dentro d'acqua da un'associazione di genitori che da anni ha sposato la causa dei piccoli pazienti di Pescara. Una grande festa che ha ben rappresentato la forza e la solidarietà che nutre questa grande famiglia. Noi abbiamo insieme ad Agbe organizzato questa festa insieme per vivere un momento fra associazioni che andasse al di là di quella che è la realizzazione dei progetti. Ci conosciamo da 14 anni, abbiamo realizzato insieme tante cose grazie a tutta la cittadinanza e oggi è stato un momento di condivisione molto emozionante. Un paese in festa dove a partecipare sono stati proprio tutti, istituzioni, cittadinanza e tantissimi bambini. Lorella Cuccarini con 30 ore per la vita regala da tantissimi anni sostegno e vicinanza per importanti progetti. Per l'Agbe tutto ebbe inizio con il reparto di oncoematologia pediatrica e poi la realizzazione della casa alloggio di Pescara e dall'in poi tanti progetti susseguitesi con la sua presenza, tra i quali anche il Day Hospital pediatrico inaugurato due anni fa. Anche se dovessimo cambiare o comunque implementare con altre iniziative manteniamo un rapporto e un filo diretto con tutte le associazioni che hanno beneficiato in questi 22 anni quindi veramente la nostra famiglia si allarga sempre di più e giornate come queste sono proprio indicative dell'affetto e dell'abbraccio che c'è fra le associazioni che ci siano progetti da realizzare e non.